E' proprio da qui dal centro di Roma Antica che partirà e terminerà la tappa del Giro d'Italia e terminerà l'intera Corsa Rosa e oggi ho deciso di portarvi a scoprire il percorso per mostrarvi quelle che saranno le difficoltà che incontreranno i ciclisti del Giro ma anche quali sono le difficoltà che incontrano tutti i giorni i ciclisti a Roma e proprio da qui inizierà la corsa il gruppo si lascerà alle spalle Piazza Venezia e prenderà il disastro eccoci qua Tombini, buche, traffico, asfalto scosceso del tutto irregolare questi tombini, lato carreggiata che a volte sono delle vere e proprie voraggi sono visti i ciclisti che finirci dentro e riapparire in un universo parallelo ma segnaletica orizzontale non c'era noi stiamo percorrendo un pezzo di preferenziale secondo il codice della strada italiano dovremmo camminare qui al lato della corsia non dentro la preferenziale praticamente in mezzo alla strada si punta al Quirinale ed eccoci qui in cima al colle vedete il colle? poi si butta qui in via delle quattro fontane passando dall'asfalto di nuovo al San Pietrino le ore 00.01 del 27 maggio fino alle cessate esigenze il gruppo qui sbucherà in uno dei posti più belli del mondo siamo proprio di fronte alla chiesa di Trinità dei Monti che si affaccia sulla scalinata di Piazza di Spagna abbiamo preso un fuggitivo no, non sei italiano eh? solamente l'1% dei romani si muove in bici e per noi questo è già qualcosa perché prima eravamo lo 0 virgola ci si butta giù alla volta di Piazza del Popolo tornante numero 1 tornante numero 2 si riatterra sui San Pietrini ed eccoci qui si girerà attorno alla piazza e si imbucherà via del corso ci troviamo nell'area pedonale proprio in questo punto finisce l'area pedonale il traffico confluisce di nuovo su via del corso e le persone sono costrette a camminare in piccolissimi marciapiedi quasi in Finlandiana incontrandosi devono scendere dal marciapiede e invadere la sede stradale con tutti i rischi che ne conseguono le stanze del potere alle mie spalle chiamose tutta la corsia e si risbuca qui a Piazza Venezia una delle meraviglie più trafficate del mondo ora vabbè con buche annesse dovranno prestare molto attenzione si scollina al Campidoglio giù verso il teatro di Marcello anche qui strada larghissima che ci vuole a fare una bike lane e si punta al circo massimo si gira intorno alle terme di Calacalla e qui si sale di nuovo si gira poi a sinistra e si torna indietro alla fine della Colombo e qui abbiamo una grande marciapiede molto poco frequentato che però potrebbe ospitare una bellissima ciclabile guardate questa radice qui no infatti non è una radice questo è un tronco no è veramente una radice questa radice è patrimonio dell'UNESCO e bisognerebbe lavorarci un po' su su questo marciapiede stiamo in via delle terme di Calacalla Buga ah è rosso è rosso mi era presa passaggio sulle rotaie del tram a seguire alterraggio dall'asfalto al San Pietrino qui siamo a poco più di un chilometro dall'arrivo e c'è di nuovo un piccolo tratto di salita stiamo girando attorno al Colosseo ed ecco che qui inizia l'ultima curva una lunga e leggera curva a destra che ci mette nel rettilineo ed in falso piano in discesa si raggiungeranno velocità prossime 70 km orari soprattutto si atterrerà di nuovo sul pavè proprio quando inizierà lavorata ed esattamente in questo punto si taglierà il traguardo dunque domenica a Roma ci sarà l'ultima tappa del Giro d'Italia sarà una bella passerella per la città e per l'amministrazione e non dimentichiamo che il Giro d'Italia è uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il mondo ma non vorrei che passasse il messaggio ancora di più che la bicicletta è un mezzo per fare sport la domenica no, la bicicletta è un mezzo di trasporto importantissimo pulito efficace silenzioso e sicuro loro avranno anche le strade chiuse al traffico mentre noi ce la dobbiamo vedere tutti i giorni con milioni di macchine perché è una cosa scabrosa in 10 km di circuito cittadino non siamo riusciti a percorrere neanche un cavolo di f***issimo metro di corsia ciclabile io vi saluto vi auguro un buon fine settimana e buon Giro d'Italia con l'ospicio che Roma diventi presto un posto non solo bellissimo dove pedalare ma anche sicuro grazie a tutti grazie a tutti Grazie.